L'economia, la finanza, la politica raccontate attraverso il linguaggio dei meme, questo è Memeconomics, ben trovati in nostra compagnia. È il caso del momento, ne parlano tutti, mi riferisco ovviamente a GameStop e a quei titoli che stanno registrando sostanzialmente un'impennata, una fiammata mai vista prima, è il social trading che sfida Wall Street sul suo stesso campo, titoli cioè ritenuti short da anni, considerati tali perché fanno parte di un settore oramai passato e non più produttivo, che all'improvviso ritrovano vivacità grazie a un gruppo di piccoli traders, grazie a dei piccoli social network che mettono le condizioni in questi titoli di avere delle fiammate anche superiore ai 100 punti percentuali di una singola seduta. Wall Street sta cercando in qualche modo di metterci qualche top, in particolare le limitazioni da parte delle piattaforme di trading che hanno agevolato questa attività, ma sta di fatto che titoli che mai avremmo immaginato potessero registrare una performance super stanno facendo esattamente quello che ci mostra il primo meme, e cioè eccoci qua, stonks only go up, vanno verso il su e non li ferma nessuno. In realtà qualcosa è cambiato come detto, dato che alcune piattaforme hanno limitato il trading a questi piccoli traders e questo ha comportato un forte, un crollo insomma importante proprio da parte di GameStop, ma insomma la partita rimane aperta. Tant'è che il prossimo meme lo vediamo con Leonardo DiCaprio a fronte di Wall Street che dice GameStop non ha futuro, vendiamo le sue azioni, non due azioni, chiedo scusa per l'errore, ecco che gli utenti di Reddit, il social network da cui è iniziato tutto, si beve il suo drink ridendo sotto i baffi, sapendo che la verità evidentemente è un'altra. E questo comporta una sorta di combattimento, di battaglia tra Wall Street e Reddit che è appunto il social network da cui è iniziato tutto. Gli operatori, insomma, chi investe sul mercato assiste a questo scontro, in particolare ci sono anche gli istituzionali, gli hedge fund che stanno perdendo parecchi soldi e che in qualche modo stanno cercando di capire insomma come frenare questo fenomeno, di cui continueremo a parlare ovviamente. Andiamo avanti perché restiamo sempre sui mercati, ci sono altri titoli, non solo GameStop che stanno registrando queste fiammate clamorose. GameStop e qui ci aiuta Vince McMahon che è uno dei volti più noti nel mondo dei meme, poi c'è anche ACM e poi ancora BlackBerry e Nokia, tutti i titoli che stanno avendo una propria propulsione verso l'alto. Infine anche l'argento, anche le materie prime stanno registrando questa performance super, l'argento nella seduta di giovedì ha registrato un più 5%, così, senza motivo, senza alcuna spiegazione apparente. Come detto continueremo a parlare di quello che accade sul tema di GameStop, ma lo facciamo anche sugli asset, continuiamo a parlare anche di asset più classici che invece rimangono più o meno fermi. Ad esempio l'oro, il gold, sempre lui, aspettava che il gold tornasse in area a 2.000 dollari l'oncia e qui abbiamo il nostro amico Kermit. Diverse banche d'affari, diversi report ci riportano che l'oro in realtà riprenderà il suo trend rialzista raggiungendo nuovamente 2.000 dollari l'oncia, però più vengono pubblicati questi report più l'oro rimane fermo e quindi insomma questo meme ci sembrava adatto. L'argomento della settimana, come detto, è GameStop. Quello della settimana scorsa, fine settimana scorsa, è stato quello di Bernie Sanders durante l'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca. La fotografia di Bernie Sanders ha fatto il giro dei meme e quindi anche il giro del mondo, con questi suoi guanti che sembrano davvero comodi, soffici, caldi, in una mattinata evidentemente piuttosto fredda. Bernie Sanders è finito ovunque. Noi vi mostriamo qualche meme che forse in Italia non si era ancora visto, insomma non magari tra i più popolari ma sicuramente più divertenti. Qui troviamo Bernie Sanders nel ruolo, in uno dei personaggi di Game of Thrones, del trono di spade, insomma assieme agli Stark sostanzialmente, ad Arya e a tutti gli altri, tutti gli altri protagonisti. Sansa, insomma oltre ovviamente al protagonista principale che poi si rivelerà essere non più uno Stark ma anche un Targaryen, no? E quindi sicuramente tra i personaggi principali vediamo qui Bernie Sanders. Andiamo avanti con il prossimo meme che lo vede protagonista invece sulla luna, seduto, comodo ma ovviamente con lo scafandro altrimenti non potrebbe respirare davanti alla bandiera americana insomma nel ruolo che poteva essere quella di Armstrong, il primo a mettere il piede sulla luna. Non c'è Armstrong ma abbiamo Bernie Sanders. Altro meme, altra immagine, altro fotomontaggio, lo vediamo assieme nella riunione insomma degli Jedi in uno dei primi film della saga insomma di Guerra Stellare, i primi in ordine cronologico perché questo dovrebbe essere tra il numero uno e il numero tre, credo che sia il numero due ma potrei sbagliarmi. Dunque all'interno del consiglio dei Jedi per salvare in qualche modo la democrazia, a proposito di democrazia. Questa parola ci permette di tornare a affrontare il tema della crisi di governo in Italia. Partendo da quest'altro meme che non è un meme in realtà, è una grafica di un giornalista che ci fa notare come negli ultimi trent'anni food for thoughts, quindi cibo per i pensieri. La Germania ha avuto tre cancellieri negli ultimi trent'anni, la Francia ha avuto cinque presidenti del paese, l'Italia ha avuto 14 primi ministri, praticamente uno ogni due anni. Stabilità, tanti saluti, ma d'altra parte è così che sta andando avanti e infatti ve lo raccontiamo anche attraverso il prossimo meme. L'Italia è davanti a una nuova crisi di governo, Conte ha deciso di dare le dimissioni dopo non aver ricevuto la maggioranza piena in Senato e noi ce lo siamo immaginati così, come Kid Rock, Giuseppe Conte mentre va al Quirinale, e Quirinale è minuscolo chiediamo scusa, per dimettersi dal governo Conte, per permettere a Giuseppe Conte di fare nuovo governo Conte. Insomma è una situazione talmente intorcinata, talmente aggrovigliata che comunque vede sempre la figura di Conte a capo del futuro possibile governo e ce lo siamo immaginati così, tronfio mentre cammina verso il Quirinale, come a dire adesso metto le mie responsabilità. Rimetto il mio mandato al Presidente della Repubblica ma consapevole del fatto che sarò sempre io a governare. La situazione è sostanzialmente questa. E noi ci siamo messi anche nei panni di Sergio Mattarella che si ritrova per l'ennesima volta a Conte al Quirinale, dopo avergli dato il mandato, dopo averlo ricevuto per le prime dimissioni, adesso ulteriori dimissioni. Secondo noi reagisce così, reagisce come Aldo Baglio di Aldo Giovanni e Giacomo che dice mi basta, basta la reazione di Mattarella davanti a Conte che vuole dimettersi per la seconda volta in due anni. Ancora qui sei. Noi insomma ci siamo fatti questa immagine e non credo che siamo così lontani dalla verità. Detto questo ci troviamo adesso davanti a una scelta, o meglio la politica si trova davanti a una scelta, e cioè bisogna capire chi sarà alla guida del nuovo esecutivo che poi dovrebbe traghettare il mandato fino al 2022 quando ci saranno le nuove elezioni. E allora si fa il nome del Conte Ter, abbiamo i Te Draghi che ci rappresentano un po' la situazione. Il Conte Ter è il più accreditato, quindi il più autorevole se vogliamo. Si parla di Fico, il presidente della Camera, a cui potrebbe essere affidato un mandato esplorativo. E' venuto fuori anche il nome di Casini e per noi è il drago più scemo, diciamo così, all'interno di questo meme, i possibili candidati come nuovo presidente del Consiglio. Perché Casini, insomma, sostanzialmente esiste da una vita ogni volta che si tratta di fare dei nomi come possibili presidente del Consiglio, della Repubblica, del Senato, della Camera. C'è sempre Casini, insomma. Casini c'è da quando probabilmente è nata la Costituzione. E inevitabilmente ce lo ritroviamo tra i candidati, anche questa volta. C'era a dire, scherzi a parte, insomma, che nel suo intervento di Conte, poco prima che andasse, che, insomma, ufficializzasse le sue dimissioni, ha usato un passaggio importante. Se io mi dovessi dimettere, dovessi poi allontanarmi dalla politica, ricomincerei a fare il lavoro che faccio di solito. Ma ricordatevi, rivolto a tutto il Parlamento, che sono stato scelto perché nessuno della politica è stato considerato autorevole, giusto, come prendere in mano, insomma, per prendere in mano Palazzo Chigi ed essere presidente, evidentemente per una fiducia arrivata ai minimi storici nei confronti dei politici da parte dell'elettorato italiano. Quindi, insomma, riflettere su questo, nel momento in cui dovesse essere una nuova figura politica, a prendere in mano il nuovo governo. C'è caos, comunque, per quanto riguarda l'Italia, su vari fronti, non solo la crisi di governo, ma si parla, ad esempio, anche dei vaccini e della difficoltà che si sta affrontando nella distribuzione dei vaccini. Questa grafica non è un meme, ma, insomma, ci permette di fare un'ulteriore riflessione. La Lombardia, queste sono le varie regioni, e la percentuale di dosi di vaccino somministrate per categoria, l'azzurro sono gli operatori sanitari e sociosanitari, l'arancione sono gli ospiti RSA, quindi i ricoverati, sostanzialmente gli over 80 rappresenta la fascia gialla, il personale non sanitario è la fascia rossa. Guardate la Lombardia, 40% operatori sanitari, 51% personale non sanitario. Non ha senso, non ha senso in un'emergenza di questo tipo, anche perché tutte le altre regioni, tutte le altre regioni, hanno una maggioranza di operatori sanitari e sociosanitari tra i più vaccinati. Fa eccezione la provincia autonoma Bolzano, ma quella, insomma, è una realtà anche piuttosto particolare. Fa specie, fa specie che in Lombardia la maggioranza non sia un personale sanitario, ma sia personale non sanitario. È ovvio che siamo autorizzati a pensare che c'è qualcuno che sta passando avanti senza averne il diritto, magari attraverso qualche conoscenza, politica o non politica. E questo ovviamente è grave, è un danno. In tutto questo la Lombardia è anche la regione protagonista degli errori, delle rilevazioni dei dati, del contagio, una rilevazione che si è rivelata errata e dopo la quale ci sono stati dei ricorsi riferiti al Tar e non soltanto. Adesso pare che la Lombardia potrà passare in zona gialla dopo essere passata dalla zona rossa, all'interno della quale si è trovata in maniera non giustificata la zona arancione. Quando saremo in zona gialla, finalmente saremo, lo diciamo perché comunque vi trasmettiamo da Milano, che cosa succederà? Io mi immagino il Lombardo medio, così come il buon vecchio Carletto Mazzone, che irrefrenabile si mette a correre verso la curva dell'Atalanta, noi ci metteremo a correre verso direzioni disparate e così quando i Lombardi torneranno, qui c'è un altro errore, che do scusa, torneranno in zona gialla, ignorate, quel tornerà, e così insomma, noi ce li immaginiamo così, i cittadini Lombardi, insomma, presi non irrefrenabile voglia di correre e andare da qualche parte, anche con una certa rabbia, con una certa voglia di uscire, di fare qualcosa. Non so se abbiamo ancora qualche meme, sì, perché credo che sia l'ultimo. Siamo a 30 giorni dal mese di marzo 2021, ma abbiamo ancora la netta sensazione di essere a marzo 2020, perché è lì che è tutto iniziato, in quel periodo marzo 2020 che è iniziata la pandemia, all'interno della quale ci troviamo ancora, il tempo passa in maniera molto molto lenta, quasi impercettibile, c'è chi dice che il mese di gennaio 2021 sia durato un'eternità, e allora eccoci qua, il meme che racchiudo tutto questo è Antonino Cannavacciolo pronto a prendere con un pacchero gigante noi, ci mettiamo nei panni del concorrente di Masterchef, marzo 2021 tra poco più di 30 giorni, io che sto elaborando marzo 2020. Meme Economics, questa puntata di Meme Economics finisce qui, grazie per averci seguito, speriamo di avervi strappato un sorriso anche questa volta, rimanete in nostra compagnia e ci vediamo alla prossima puntata.